Ehi, ciao gente! Come state? Io sono Red, per chi non mi conoscesse ancora, oggi è mercoledì e ho bisogno di farvi una domanda. Una domanda. Sapete, da quando faccio musicista tante volte sento parlare di persone di generi musicali diversi, questo è meglio di quello, addirittura quell'epoca è meglio di quell'altra, sono meglio gli anni 50, anni 60, anni 70, 80, 90, 100, 120, secondo me non c'è un'epoca migliore di un'altra. Però sapete, facendo un musicista comunque è diverso vedere questo dal lato musicale. Per questo voglio chiederlo a voi, voglio chiedere a voi, secondo voi qual è l'epoca migliore, un'epoca migliore dell'altra oppure addirittura qual è l'era che vi è rimasta un po' più dentro come canzoni, come stili musicali, eccetera. Mi piacerebbe veramente sapere cosa ne pensa ognuno di voi. Per farlo scrivetemelo qui sotto nella parte dei commenti o poi vado a vedere cosa avete scritto. Intanto sto facendo nuove canzoni, se ci avete fatto caso c'è una nuova serie di video che sto facendo di cui c'è già un video, un primo video, se non l'avete ancora visto è qui. La serie si chiama Late Night Sessions, o meglio l'ho chiamata io, Late Night Sessions, in cui le canzoni sono un pochino più vuote, un pochino più scarne, diciamo così anche un po' più acustiche. Se poi comunque avete dei suggerimenti per le canzoni o avete una canzone preferita a voi, io sono qua e farò di tutto per cercare di farla. Nel frattempo vi do appuntamento a mercoledì prossimo con un nuovo video, se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale e poi comunque venitevi a trovare su Facebook, su Twitter, su Instagram oppure potete andare anche sul mio sito redsite.it e iscrivervi alla newsletter così poi io vi mando le cosine via email. Ok? Comunque non dimenticatevi di rispondermi alla cosa iniziale del genere musicale e degli stili musicali, molto importante. Io vi saluto, vi aspetto mercoledì prossimo, io e la mia tazza di teschio vi salutiamo, il tumore che sentivate era questo. Ci vediamo mercoledì prossimo, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf... Ciao!